E allora, questo festival di Sanremo, Max, lo sai, non è andato come doveva andare, noi di Pijama Rave abbiamo intenzione di risarcire i telespettatori di tutto ciò che questo festival di Sanremo non potrà dare, per esempio Naomi Campbell, abbiamo visto, Naomi Campbell era stata annunciata nei giorni scorsi, doveva andare al festival, poi però non se ne è fatto più nulla, Naomi Campbell ha dato forfait, quindi non ci sarà nessuna venere nera all'Ariston, ma perché? Ma perché? Voglio dire, ma chiamatele un'altra, no? Black Lives Matter, Black Lives Matter, quante volte lo dobbiamo ripetere? E allora lo facciamo noi di Pijama Rave collegandoci con Sahel e Lomo, Sahel e Lomo, buonasera, buonasera Sahel, buonasera, Sahel, lei è qui, mi perdoni, a tappare un buco, il buco di Naomi Campbell, che detto così, ma insomma ci siamo capiti, ora, Sahel, quello che le chiediamo è quello che avrebbero chiesto a Naomi Campbell se fosse andata a Sanremo, cioè, Sahel, io le chiedo gentilmente di scendere una scala con un tacco 18, Sahel, lei ha una scala lì in casa? Sì, sì, c'è l'ha, e ha anche il tacco 18? Sì, ecco, e faccia vedere, sono miscredente, oh, perfetto, tacco 18 c'è, benissimo, la scala mi assicura che c'è, Sahel, allora le chiedo di salire in cima alla scala e noi le faremo partire la musica dell'Ariston e lei scenderà esattamente come avrebbe dovuto fare Naomi Campbell, prego Sahel, non vedo però, ecco la scala, ecco la scala, perfetto, perfetto, ecco c'è tutto, allora Sahel, salga in cima alla scala, quando il maestro Peppe Vessicchio fa partire l'orchestra e il teatro Ariston, lei potrà scendere, prego Sahel, ecco, e allora a questo punto, musica! Ecco, Sahel è l'uomo che scende le scale esattamente come avrebbe fatto Naomi Campbell all'Ariston e si avvicina verso di noi, pubblico italiano, è stata davvero una grande emozione Sahel, grazie per averci risarcito dal forfè di Naomi Campbell, Sahel, è riuscita a scendere una scala con un tacco 18, un'impresa che ogni volta a Sanremo sembra inumana, è stato difficile? Ti sei emozionata? Sì, tanto! Bene, mi fa molto piacere, Sahel, a questo punto ti chiedo di dire le stesse cose che avrebbe detto Naomi Campbell, e cioè, ciao Italia, amo Italia, prego! Ciao Italia, amo Italia, amo Italia, tanti, tantissimo! Perfetto, perfetto, esattamente quello che avrebbero chiesto di fare a Naomi Campbell, grazie a Sahel e l'uomo per aver sostituito Naomi Campbell, grazie davvero e buonanotte da Pijama Rave, mi raccomando però voi non fatelo a casa, non scendete le scale con un tacco 18 che vi fate male, mi raccomando! Grazie a tutti!